Assembramenti di giovani il sabato in città nelle principali vie della Movida, quasi come se non ci fosse il Covid. Commercianti esasperati. Il sindaco Pierluigi Biondi ne ha già parlato col prefetto. L'argomento è in cima alla lista dei temi del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ed è pronto il sindaco ad assumere ulteriori restrizioni se la storia proseguirà con questi comportamenti che ha definito irresponsabili e rispettosi. Il sabato racconta una commerciante i ragazzi si assembrano nelle porte dei nostri negozi lasciandogli rifiuti e bottiglie. Le persone che vorrebbero venire in centro a comprare si scoraggiano e non vengono. Quello che è accaduto sabato dicono in molti è uno schiaffo a tutte quelle attività chiuse che fanno sacrifici. Uno schiaffo agli ospedali, ai sanitari, ai bambini costretti a fare scuola davanti a un pc perché si può godere di un po' di libertà ma non così spiegano anche alcuni residenti del centro. Le zone maggiormente incriminate sono via Castello, piazza Chiarino e via Garibaldi ma anche piazza Regina Margherita. Alcuni commercianti stanno preparando una segnalazione da sottoporre a questore il prefetto. Tutto questo mentre i numeri dell'Aquila sono quasi da zona rossa, vicoli pieni, aperitivi improvvisati, mascherine poche. Di contro ci sono giovani invece che la città la puliscono e la rispettano come l'associazione Azimut. Non è la prima volta che assistiamo ad atti di maleducazione da parte di cittadini che preferiscono gettare i rifiuti a terra e non nei cestini o nelle aree di raccolta. Come associazione Azimut riceviamo spesso molte segnalazioni su questa tematica. Noi cerchiamo di fare il nostro piccolo, con una rete di associazioni siamo più volte intervenuti per tenere pulita la città e riqualificare tante aree all'insegna anche di un messaggio di sostenibilità che vogliamo mandare per far vedere che i giovani non sono soltanto quelli che sporcano gli irresponsabili ma anche quelli che cercano di dare l'esempio. In questo caso dare l'esempio significa lanciare un messaggio non di giudizio ma di buon senso. Quindi cerchiamo tutti insieme di rispettarci e di rispettare la nostra città. Tante proteste anche dalla galleria Irti che si trova sul corso per arrivare alla villa. Qui ci sono attività commerciali ma anche appartamenti di residenti. Si attende la chiusura dei negozi poi si bivacca lasciando ogni genere di rifiuti sulle scale. E anche la domenica appena trascorsa ha visto complice il bel tempo tanta gente riversarci in centro con piazza Duomo che si è riempita ancora una volta di rifiuti gettati a terra. Sabato e domenica le forze dell'ordine intanto hanno fatto dei controlli, due titolari di attività sanzionati e una chiusura provvisorio di attività.